Ciao a tutti, ci troviamo nella splendida cornice del Forte di Valle Drane, nel comune di Torvisio Bresciano e questa volta invece esattamente nella piazzola di artigiaria antierea esterna del Forte ma stavolta non vogliamo parlarvi di questo Forte ma vogliamo parlarvi esattamente dei quattro morti che sono collegati a questo Forte tutti i successi, tre prima della Grande Guerra Mondiale e uno durante la Seconda Guerra Mondiale incomincieremo a spiegarvi i quattro morti, il primo da qua della piazzola antierea perché? Perché il primo si ebbe dopo la finita costruzione di questo Forte esattamente nel 1912, vi furono varie prove di collaudo e questo Forte con i suoi 6 cannoni che abbiamo già raccontato nei nostri video cominciò a fare dei tiri a salve il primo tiro salve che venne effettuato nel lago d'Itro, esattamente qua sotto partì un colpo a salve, andò nel lago un mio paesano, che non metteremo il nome, prese paura si lanciò dal tetto e morì questo è il primo morto del Forte di Valle Drane a Crone durante un colpo di prova del Forte di Valle Drane adesso ci spostiamo nelle altre parti del Forte per spiegarvi dove sono morti gli altri tre che sono morti all'interno del Forte di Valle Drane vi spiegheremo il tempo e vi daremo il nome di questi tre soldati il secondo morto avvenne qua, in questo punto, davanti alla cucina infatti il fante Caselli Umberto di Trani, di vent'anni, nel marzo del 1915 vicino al bagno trovò una bomba a mano la prese in mano, la guardò, si dirisse qua verso l'entrata delle cucine esplose la bomba, diverse la porta dell'entrata anche ferì il cuoco, distrusse la porta, distrusse anche il vetro e lui morì sul colpo, esattamente qua davanti tra la cucina e il bagno del Forte questo è il secondo morto, il povero è successo nel 1915 in marzo 15 Caselli Umberto di Trani adesso ne saliamo perché ogni pezzo di questo Forte ci racconta una morte macabra purtroppo il terzo morte, morto invece del Forte di Valle Drane è successo nel 1915, precisamente in aprile, poco prima della Grande Guerra ed era Marcianti Francesco di 21 anni di Leverano Lecce qui bisogna fare un piccolo inquadramento storico però questa fortificazione, bisogna tornare indietro al 1900 prima del 1900 e l'Italia aveva tutti i suoi dialetti e non era diffusissimo l'italiano come c'era un tasso altissimo di analfabetismo infatti qua a comunicare, di solito si mettevano soldati tutti dello stesso, diciamo, della stessa provincia per alleviare queste differenze per la comprensione qui al Forte invece sono due o tre lingue diverse una di queste purtroppo era il nostro soldato di Lecce infatti qua, mentre cercavano di far partire un colpo a salve da questo forte per poter provare il colpo il soldato si mise qua davanti al colpo 249 non capendo gli ordini detti in bergamasco dagli altri che erano qua sul tetto il ragazzo di Lecce non capì partì un colpo il colpo gli spezzò la spalla diverse proprio la spalla e il braccio e in poco tempo morì dissanguato questa è la terza morte del forte di Valle Drane tre soldati e un civile come raccontato prima perché in questa storia, in questo forte non morì nessuno nella Grande Guerra morì solo una nella Seconda Guerra Mondiale ma ne morirono altri tre prima della Prima Guerra Mondiale e un saluto a tutti per aver raccontato in questo pezzo di storia da questo tetto, di questa bellissima fortificazione della Valle Sabia sperando di sempre di essere rimasti utili adesso andremo a mangiare la nostra formaggera da Livano scendendo andremo all'azienda agricola Ivana Toni ciao a tutti, ci vediamo presto siamo al piano superiore e qui arrivò il quarto morto il quarto morto è durante la Seconda Guerra Mondiale più precisamente l'ottobre del 1944 qui il forte già nel 1943 era passato sotto il risi e sotto la costruzione della linea difensiva della linea Todd qui in questa fortificazione ricostruirono in parte molti bunker almeno quattro bunker che servivano per proteggere questo forte e anche questo forte nel 1943 durante le opere di lavorazione di bunker qua vicino al forte i soldati d'Arrisi che erano otto vengono sorpresi da un attacco partigiano che li denudò e li portò in mezzo al paese irredendoli, i tedeschi da allora non lasciarono più il comando del forte e delle difese delle costruzioni qua agli italiani o a Arrisi e se rimasero loro cosa fecero? fecero instaurare dentro in questo forte una trentina di soldati che non gli facevano mai uscire e alcuni nel Bundestag qui sotto e altri nei due Bundestag qua sotto i partigiani arrivarono e fecero l'assalto come dicevo in ottobre del 1944 gli fu un conflitto a fuoco morì un soldato tedesco e feriti due partigiani l'attacco venne da qua venne da qua salita verso l'antenegolo arrivarono da questa parte i tedeschi uscirono dal forte ma uscirono anche dai Bundestag là dietro e fecero una specie di tenale però i partigiani riuscirono a dileguarsi e a uccidere un tedesco esattamente qua davanti mentre facevano la loro fuga questo è il quarto morto di questa fortificazione avvenuta nel 1944 a ottobre a ottobre a ottobre a ottobre